uno scatto di coscienza mi svegliai come quasi tutte le mattine a fianco del mio cane del mio migliore amico in una casa che pareva non essere più di nessuno da tanto tempo e che in qualche modo facevamo rivivere anche se noi stessi eravamo molto lontani dalla vita era già tanto che fossi riuscito a dormire quella notte perché la sera prima mi ero fatto una dose ma mi svegliai ugualmente molto presto e molto male nonostante tutte le coperte che avevo addosso e con tanto di cane accucciato sopra tremavo di freddo e mi facevano male le ossa e non era certo per colpa del freddo ma dell'astinenza che si faceva sentire come ogni mattina mi feci coraggio e andai a fare la colletta in giro chiedendo anche a qualche amico se poteva lasciarmi un paio di linee per cominciare la giornata ne trovai una ma siccome stavo con il mio amico e con una sola dose e dividerla sarebbe stato inutile per entrambi la lasciai a lui e mi avviai verso il cert dove solitamente trovavo altri amici o spacciatori con i quali accordarmi ma quella mattina non trovai nessuno chiesi se qualcuno aveva una ricetta per dei medicinali che potessero sostenermi ma niente finché un amico viste le mie condizioni si offrì di entrare al cert per prendere la sua dose di metadone e di passarne un po a me bisogna sapere che ai tossici il metadone viene dato direttamente in bocca davanti ai medici proprio perché si teme che una volta fuori se lo vadano a vendere quindi il mio amico uscita tenendone un po in bocca per poi sputarlo nel sacchetto di plastica che avvolge il pacchetto delle sigarette me lo bevi subito era la prima volta e dopo un'ora stavo meglio perlomeno non sentivo più i disagi dell'astinenza così cominciai a comprendere che potevo togliermi di dosso quello stato di sofferenza fisica in un battibaleno e in breve entrai nella struttura per parlare con un medico mi dissero che finché ne avrei avuto bisogno mi avrebbero dato il metadone ogni giorno e con un po di buona volontà cioè riuscendo a resistere alle droghe a poco a poco avrei potuto scalare il metadone tornando a una vita normale ma la mia volontà cominciò e finì quello stesso giorno il problema era che prendendo il farmaco dovevo farmi una dose maggiore di droga per sentirla di conseguenza mi aumentavano la quantità di metadone e il circolo vizioso non finiva mai mi faceva passare il malessere vero ma non levava la dipendenza il metadone è un oppioide sintetico utilizzato per la disintossicazione ed evita l'uso della droga ma a sua volta crea dipendenza all'inizio ne prendevo 30 milligrammi che mi coprivano fino a un grammo di sostanza al giorno ma siccome non mi bastava stavo male comunque così arrivai a consumarne 120 milligrammi al giorno più altre droghe e farmaci e le dipendenze in breve tempo diventarono multiple con il bisogno di trovare sempre più soldi mi trovavo in una situazione che mi sprofondava sempre più in basso anche se ancora non me ne accorgevo dovetti cercare altri modi per procurarmi quello di cui avevo bisogno da questo punto la strada fu un precipizio tra arresti e denunce fui costretto ad andarmene dalla mia città e mi spostai al sud dove mio fratello conosceva un medico che poteva aiutarmi salutai i miei amici ai quali dissi che ci saremmo rivisti entro 15 giorni così pensavo e partì non sarei più tornato per anni il dottore in questione è un famoso psichiatra e una volta accertatosi delle mie condizioni mi chiese di rimanere presso il suo centro un po di tempo per potermi curare di lì a breve arrivai ad assumere 400 milligrammi di metadone concentrato più tanti altri farmaci che avevano la funzione di farmi stare tranquillo e recuperare quelle zone del cervello che non reagivano più perché come si scopre sempre troppo tardi le droghe bruciano cellule cerebrali di tutti i tipi e avendo io fatto uso di miscele micidiali per anni la conseguenza era che erano state distrutte cellule che si potevano recuperare e altre la cui rigenerazione sarebbe stata lenta e faticosa in poco tempo diventai uno zombie senza più un motivo per vivere e senza alcuna aspettativa se non quella di bere ogni mattina la mia nuova dose ogni volta che la prendevo cadevo in sonnolenza tanto da rendere difficile ogni attività figuriamoci quanto era improbabile e trovare un lavoro inoltre mi causava gonfiori alle mani e ai piedi e blocchi intestinali per anni ho sofferto di paranoia e mania di persecuzione depressioni che in più di un'occasione mi hanno portato sull'orlo del suicidio questo come normale conseguenza dell'uso delle sostanze stupefacenti altro che paradiso tutto questo durò anni finché presi un po coscienza della situazione obbligai il dottore a scalare il metadone con il risultato che ricominciai a fare uso di droghe era inevitabile ma io nella mia presunzione credevo di avere la situazione in pugno invece era la droga che aveva in pugno me e non mollava la presa fino a che ci fu una svolta in un momento di lucidità mi resi conto che erano passati 14 anni da quando avevo iniziato avevo preso mille batoste e ne avevo abbastanza decisi di scalare nuovamente il metadone e allo stesso tempo anche tutti i farmaci contro il parere del medico sapevo che potevo farcela ho messo insieme tutta la forza di volontà che mi era rimasta e sono andato avanti a testa bassa un po alla volta ho scalato il farmaco fino ad arrivare a prenderne solo 15 milligrammi al giorno ma da questo punto in poi poteva essere pericoloso la disintossicazione dal metadone più dura e rischiosa che dalle droghe e i sintomi dell'assinenza più forti mi aiutavo con dei medicinali per contenere l'agitazione e l'insonnia e per non rischiare di ricadere nell'uso degli stupefacenti a quel punto mi sono rivolto a una struttura ospedaliera per poter essere assistito e portare a termine il mio processo di guarigione e di ritorno alla vita ero convinto così mi avevano detto che una volta eliminata la sostanza dal corpo tutti i problemi si sarebbero risolti da soli sarebbero rimasti solo dei disagi fisici che in poco tempo sarebbero regrediti ma avevo fatto male i conti nel giro di 15 giorni ero finalmente libero dal metadone da tutte le droghe il mio fisico aveva reagito bene nonostante tutto erano rimasti solo dei dolori alla schiena e alle gambe e sapevo che sarebbero passati presto però il problema stava ancora nella mia insufficiente evoluzione una dottoressa prima del trattamento mi aveva spiegato che una volta libero mi sarei ritrovato con me stesso e con la mia vita e con tutti i problemi legati ad essa ma anche con le gioie e la consapevolezza di dovermi costruire un nuovo mondo aveva ragione ma non era semplice il metadone mi manteneva in una specie di limbo di realtà annebbiata in cui sapevo certamente quello che mi accadeva intorno ma tutto aveva un'importanza relativa invece una volta pulito era come se l'aria intorno a me fosse più fresca più frizzante ero sveglio finalmente ma di colpo presi coscienza di tutte le mie difficoltà dei problemi lasciati indietro irrisolti che ora si presentavano tutti davanti a me e tutti insieme fui preso dal panico ma come doveva andare tutto meglio invece sentivo un peso immane sulle mie spalle era la vita che non ero stato capace di vivere e che non conoscevo erano le responsabilità che non avevo mai preso era la fiducia che dovevo dimostrare di meritare erano le decisioni nuove che dovevo prendere che avrebbero segnato la mia nuova strada per la prima volta ero io che dovevo e potevo scegliere per un po dovuto assumere dei farmaci per darmi il tempo di riequilibrarmi le notti erano terribili la paura tanta ma ero determinato a non tornare indietro c'era vicino a me chi mi voleva bene e cercava di aiutarmi di consigliarmi per il meglio ma soltanto quello che decidevo da solo con la mia volontà poteva portarmi alla salvezza perché era la mia coscienza volerlo ricordo ancora quando all'inizio come tutti dicevo a me stesso ne esco quando voglio ci sono voluti 14 anni per riuscire ad esercitare la mia volontà ed è arrivata in un attimo di luce se avessi perso quell'attimo sarei ancora nel baratro in cui ero caduto vorrei che questa luce potesse arrivare a tutti quelli che come me si sono persi e vagono ancora nel buio commento quella luce è stata uno scatto di coscienza l'averlo raggiunto è un grande merito chi non lo raggiunge in questa vita lo dovrà raggiungere in un'altra tu l'hai raggiunto in questa complimenti